Il 2012 sarà un anno particolarmente difficile per le imprese polesane, più difficile del 2010 e del 2009. Le aziende, che negli anni scorsi hanno resistito, si trovano a fare i conti con una crisi finanziaria che non ha precedenti, in cui banche e istituti di credito, anche loro sopraffatti dalla crisi dell'economia virtuale, hanno stabilito dei rating che non tengono conto della storia e dimensioni dell'azienda, per cui è difficile accedere al credito e perciò fare impresa. Presidente Belloni, qual è il difetto delle imprese polesane e in che modo far fronte a tale deficit? Sicuramente il fallimento di un'azienda è la conseguenza estrema e drammatica di una serie di inefficienze o di mancate previsioni in cui sicuramente il passaggio nazionale può essere uno di questi. Più che il passaggio nazionale direi l'ostinarsi di alcuni imprenditori sul condurre l'azienda come lo si faceva dieci anni fa, potrei dire cinque anni fa, se non vent'anni fa. I mercati sono cambiati, gli scenari sono cambiati, i costi sono cambiati, pertanto se non c'è una innovazione di condurre, conduzione dell'azienda, si rischia di morire. Però non vorrei generalizzare, quindi il passaggio nazionale è uno degli elementi che sottende poi a una serie di scelte che sono date appunto dalla internazionalizzazione, dalla forma societaria, dai piani finanziari, da nuove modalità di conduzione dell'azienda che sono necessarie, ripeto, per essere competitivi. La fotografia dell'economia polesana in bianco e nero. 73 fallimenti delle aziende polesane nel 2011, di cui 51 nel settore dell'edilizia. Un calo del 3% delle imprese del settore agricoltura, nonché una diminuzione dello 0,3% delle imprese attive e artigiane. Ma non mancano i segnali positivi, come la crescita delle società di capitale, il saldo demografico positivo, anche se non di molto, e il tasso di sviluppo reso noto da Union Camere per le imprese del Polesine, pari allo 0,37%. È possibile che non si mettano delle corsie preferenziali per chi vuole investire in Polesine o per chi vuole aprire una nuova attività. Purtroppo ad oggi si parla tanto di sburocratizzazione, ma di fatto siamo una provincia estremamente burocratizzata. Siamo vecchi, siamo lenti e, ripeto, troviamo troppe e disperdiamo troppe energie nel litigare rispetto a come, rispetto che a fare semplificazione. Presidente, una soluzione per uscire dal guado c'è? Non c'è possibilità per le micro-imprese di poter affrontare mercati globali, mercati internazionali, se non c'è una rete di impresa. Questa rete di impresa che deve portare, lo dico soprattutto qui in Polesine, a delle vere e proprie fusioni di professionalità, di competenze e di eccellenze, per poter essere pronti a rispondere immediatamente a quelle che sono le esigenze del mercato, che è un mercato internazionale, non è più un mercato di tipo provinciale o locale. Il suo suggerimento personale per le aziende polesane qual è? Uno alle giovani aziende e ai giovani imprenditori è quello di crederci, è quello che nei momenti di maggior crisi nascono le più belle idee, e la forza di resistere e la forza della passione imprenditoriale trova sicuramente quella chiave che ci permetterà di superare questa crisi e di trovare nuove energie per creare una forte marginalità e ricchezza al nostro territorio grazie a chi resiste in questo momento.